Chi è? Primo pensiero per il tuo esordio in Serie A, a chi va? La mia famiglia, la mia ragazza, tutti gli allenatori, è speciale per me. Chi è? Iling era un po' sparito dalla gara però vediamo la qualità della propria realizzazione stop era un po' più difficile di intervenire quindi questo grande gol Kibode difesa forse un po' passiva quindi ciò ha permesso ai link di accesso si è like the way I dance, si è like the way I move, si è like the way I rock, si è like the way I move Grazie a tutti 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 Grazie a tutti